Cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Sono qui con un nuovo video. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e condividere il mio video. I famosi attori Ozge Gurel e Serkan Kayoglu sono rimasti scossi da una notizia che avrebbe scioccato i loro fan. La coppia, che ha coronato il loro matrimonio con un magnifico matrimonio visto lo scorso agosto, ha affermato di aver deciso di porre fine alla loro relazione di lunga data. E questa notizia ha sconvolto profondamente sia i loro fan che il mondo delle riviste. Tuttavia, dopo l'emergere di questa affermazione, né Ozge Gurel né Serkan Kayoglu hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Ozge Gurel e Serkan Kayoglu sono attori di successo con una vasta base di fan nel mondo della televisione turca. I due hanno intrapreso molti progetti insieme durante la loro lunga relazione e, alla fine, sono arrivati al punto in cui sono stati ammirati dai fan con il loro matrimonio sballato. Ma la notizia emersa dopo questi giorni felici ha sorpreso tutti. Le accuse secondo cui avrebbe deciso di porre fine ai loro matrimoni belli e brutti hanno sconvolto profondamente i suoi seguaci e il mondo dei tabloid. Soprattutto la zonizzazione sincera e armoniosa della coppia ha reso questa affermazione ancora più sorprendente. Nonostante ciò, il fatto che Ozge Gurel e Serkan Kayoglu non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione in merito a queste accuse oscura anche la reale portata dell'incidente. I fan aspettano con impazienza che questa triste notizia venga finalmente confermata. D'altro canto, è comprensibile che Gurel e Kayoglu si concentrino sulla carriera professionale e preferiscano tenere la vita privata lontana dai media. Quindi, il silenzio della coppia può essere una scelta per tutelare la propria privacy. Di conseguenza, le accuse secondo cui i famosi attori Ozge Gurel e Serkan Kayoglu avrebbero posto fine al loro matrimonio hanno profondamente sconvolto i loro fan e il mondo dei tabloid. Tuttavia, il fatto che la coppia non abbia rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale dimostra che occorre attendere che tale affermazione venga finalizzata. I fan vogliono avere fiducia nella coppia affinché prenda la decisione più adatta a loro, continuando a concentrarsi sulla felicità delle persone che amano. Poiché la decisione di Ozge Gurel e Serkan Kayoglu di porre fine al loro matrimonio non è stata ancora confermata, è necessario attendere una spiegazione da parte dei due sulla loro reale situazione. Grazie per aver guardato il nostro video.